In questi giorni c'è stato sicuramente un po' di rumore su quella che è stata la sentenza ai danni della Juventus con le porte chiuse raddoppiate addirittura dalla sentenza. Qual è la posizione del Comune di Napoli anche nei confronti di questi ennesimi cori razzisti e anche contro la natura del calcio Napoli? La nostra posizione è nettissima, tanto è vero anche col nostro sportello difendi la città interveniamo in questi casi. La città di Napoli e la squadra sono non raramente bersaglio di condotte violente, razziste e discriminatorie. L'abbiamo visto in questi giorni nei confronti della squadra con i cori della partita ma anche nei confronti della città. Il fatto che sia stata raddoppiata la sentenza nei confronti di questi ennesimi è un segnale che qualcosa forse sta cambiando? Noi crediamo sempre nella giustizia e quando c'è una condotta ingiusta va sanzionata in modo proporzionato ed adeguato. Questo è il nostro auspicio. L'ultima la chiedo sullo stadio. Insomma è possibile rivederla presto al fianco dei laurenti? Si sono un po' riapprecificati i rapporti in questo senso? Non confondiamo le cose. Una cosa sono le interlocuzioni istituzionali nell'interesse generale. Noi lavoriamo perché queste possano essere sempre le migliori nonostante i comportamenti che altri hanno voluto assumere nelle scorse settimane e nei scorsi mesi. Quindi noi lavoriamo perché la cooperazione possa sempre migliorare anche quando subiamo delle condotte ingiuste. e per il resto la partita si può vedere da tante angolazioni. Non c'è un'unica angolazione. Invece per lo stadio continuano i lavori. Siamo già a buon punto. L'assessore Borrello ha fatto sapere che sia anche in anticipo su quelli che sono i lavori per gli universitari. Stiamo andando davvero bene. Anche qui si registra, e questo è un fatto positivo, una cooperazione molto migliorata con la società. Si sta lavorando bene sui bagni, poi si iniziano i seggiolini. Insomma finalmente si ha quella svolta che i tifosi aspettavano da tempo. Noi ci abbiamo creduto sempre, anche quando c'erano polemiche pretestuose e ingiuste. Adesso lavoriamo tutti nella direzione perché i lavori possano essere i migliori possibili, nel più breve tempo possibile, con il minore dei disagi possibili, tenendo presente quando fai lavori qualche disagio c'è sempre. Grazie. Grazie.